Un grande applauso alla giuria tecnica formata dalla Presidente Roberta Murzilli che vorrei far alzare talmente bella, vestita di bianco, Roberta Murzilli, Presidente di giuria, speaker, un'amica eccezionale di tanti giovani. Stefano Raucci, Radio Radio, Alessia Di Natale, critico d'arte, è un ringraziamento annio abbondanza che comunque seguirà per sempre le sorti di tanti giovani quindi a lui facciamo un grandissimo applauso. Radio Centro Suono Sport.